Ciao a tutti! La nostra comprensione della storia non è tanto una raccolta di fatti verificati, quanto un collage di congetture. Le persone hanno l'abitudine sfortunata di sottovalutare le capacità dei nostri antichi antenati, ma abbiamo una cura per questo. La cura è guardare alle incredibili invenzioni e tecnologie che hanno creato, ed è proprio quello che faremo in questo video. Iniziamo! Il Dolmen de Soto Il Dolmen de Soto è un mistero spagnolo di 5.000 anni, che è improbabile venga risolto presto. Ci sono circa 200 siti di sepoltura rituale dell'era neolitica nella provincia spagnola di Huelva, ma nessuno è tanto magnifico quanto questa incredibile struttura sotterranea. Il nome Dolmen de Soto deriva da Armando de Soto Morillas, che scoprì l'enorme tomba a corridoio mentre cercava di costruire una nuova casa sulla sua terra in Andalusia nel 1922. Il grande archeologo tedesco Ugo Obermeier fu chiamato sul sito per scavarlo e trovò otto set di resti umani sepolti in posizione fetale, circondati da oggetti di corredo. Gli oggetti includono coppe, pugnali e fossili marini. Sepolti con fossili marini è una pratica insolita che non è mai stata notata prima in Spagna e il suo significato è sconosciuto. Altrettanto misteriose sono le 43 pietre erette che circondano il dolmen, ciascuna delle quali è coperta da incisioni che mostrano coltelli, coppe, figure umane e forme astratte. Cento anni dopo la scoperta non sappiamo ancora nulla su chi sia stato sepolto qui o cosa significhino i simboli accuratamente incisi in relazione alle sepolture. Il mistero di Balbek L'intero sito di Balbek in Libano è sia una meraviglia archeologica che un mistero archeologico, ma sono le pietre megalitiche tagliate nella cava lì che ci forniscono il più grande mistero di tutti. Una di queste, la pietra meridionale, pesa circa 900 tonnellate. Non c'è una chiara indicazione del motivo per cui le pietre fossero necessarie, perché furono tagliate di tali dimensioni e come chiunque vivesse in tempi antichi avrebbe potuto sognare di spostarle ovunque, dopo essere state tagliate. La pietra occidentale è ancora più grande, pesando circa 1100 tonnellate. Una teoria dice che dovessero diventare parte del triliton di Balbek, ma poiché il sito del triliton è in salita rispetto alla cava, sarebbe stata necessaria una quantità di forza inconcepibile per trascinarle o spingerle su per la collina. Non possiamo nemmeno dire con certezza chi abbia eseguito il lavoro di taglio. Generalmente si attribuisce agli antichi romani, ma non abbiamo visto alcuna prova che tentassero di estrarre megaliti così enormi altrove nel loro vecchio impero. Questo sarebbe considerato un progetto di costruzione troppo difficile da tentare oggi, figuriamoci migliaia di anni fa. Intagli in bosso dei Paesi Bassi L'iconografia religiosa è di solito un lavoro d'amore per chi la crea, ma anche tenendo conto di ciò, questi miniaturistici intagli in bosso sono incredibilmente sofisticati. Solo 135 delle sculture, a volte chiamate anche noci di preghiera, sono mai state trovate, tutte realizzate tra il 1500 e il 1530 nei Paesi Bassi. Ciò suggerisce che potrebbero essere state tutte opera di una sola persona, i minuscoli altari sono tenuti insieme da giunture così piccole che i collegamenti sono completamente nascosti. Siamo stati in grado di determinare come sono stati assemblati solo utilizzando raggi X e microscopi, ma il fatto che abbiamo bisogno di una tecnologia così avanzata per capire come siano stati realizzati solleva la questione di come qualcuno abbia potuto metterli insieme senza l'uso di tale tecnologia in primo luogo. I perni che tengono tutto in posizione sono più piccoli di un seme di erba. L'occhio umano non è nemmeno in grado di vederli, quindi come hanno potuto le mani umane posizionarli con tale precisione. Qualcuno nei Paesi Bassi sta nascondendo un'antica macchina a raggi X? L'unica altra spiegazione è che la persona che li ha realizzati fosse così incredibilmente miope da essere quasi cieca a qualsiasi cosa più distante di 30 o 60 centimetri dal suo viso. Sepolture della necropoli paleocristiana di Autun C'è una necropoli paleocristiana ad Autun in Francia che sta rivelando beni affascinanti da diversi mesi ormai. Nel luglio 2022 ha rivelato i suoi ultimi tesori quando frammenti di tessuto viola e oro risalenti al IV secolo sono stati trovati all'interno della necropoli. L'oro nel tessuto è letteralmente filo d'oro. Gli esperti hanno trascorso le ultime settimane a pulire i tessuti e ora hanno appreso nuovi dettagli sulla trama e sul materiale di cui sono fatti. I tessuti provenivano dalla tomba 47 all'interno dell'enorme necropoli ed erano scoperte sorprendenti, trovate all'interno di grandi zolle di terra. Il processo di pulizia ha rivelato motivi floreali e a spina di pesce nel tessuto, mostrando un livello sorprendente di complessità per l'epoca. Piuttosto che essere indumenti indossati dalle persone sepolte nella necropoli mentre erano vive, gli esperti pensano che sia probabile che siano stati fatti appositamente per la sepoltura. Questo solleva la domanda del perché i defunti non fossero vestiti con essi quando furono sepolti, una domanda a cui nessuno è ancora riuscito a dare una buona risposta. Realizzare i capi richiedeva un alto livello di maestria tecnica, quindi sembra strano che qualcuno abbia scelto di lasciarli a terra. Il meccanismo di anticitera Ci sono molte cose che possiamo dire sul meccanismo di anticitera. Possiamo dirvi che è greco, è stato trovato in mezzo a un relitto e ha circa 2000 anni. Quello che non possiamo dirvi è come funzionasse o a cosa servisse e neanche qualsiasi esperto che abbia mai avuto la possibilità di esaminarlo può farlo. Esitiamo a descrivere il dispositivo come alimentato da un meccanismo a orologeria perché un tale concetto dovrebbe essere stato impossibile da comprendere per le persone dell'epoca, ma aveva un sistema meccanico simile a un orologio che gli permetteva di tracciare la posizione dei pianeti e delle stelle nel cielo notturno. Il fatto che sia stato trovato su una nave potrebbe suggerire che avesse un uso nautico, ma se fosse così ci aspetteremmo di trovare dispositivi simili su molti altri relitti greci di quest'epoca. Non ne abbiamo mai trovati, quindi potrebbe essere che fosse un'invenzione completamente nuova quando la nave affondò e, poiché il suo proprietario probabilmente andò a fondo con essa, nulla di simile fu creato di nuovo per quasi mille anni. Testa Tecacic Calixtlauaca Ci sono alcuni che credono che i romani abbiano visitato le Americhe in tempi antichi. A sostegno di questa teoria presentiamo la testa Tecacic Calixtlauaca. La scultura della testa fu sepolta in Messico intorno all'anno 1470, probabilmente poco prima che Colombo arrivasse nelle Americhe, come parte di una tomba. Tutti gli altri oggetti trovati all'interno della tomba erano tipici per l'epoca e il tipo di sepoltura, ma questa testa no. Infatti l'unica cosa a cui questa testa potrebbe essere paragonata è il tipo di stile scultoreo che una volta era popolare nell'antica Roma. Anche il volto sulla scultura sembra essere più europeo nello stile che nativo americano. La testa fu trovata dall'archeologo José Garcia Payón nel 1933 sotto una piramide, ma lo scioccò così tanto che non la rivelò al mondo intero fino al 1960. Nel 2001 Romeo Christophe dell'Università del Nuovo Messico confermò che la testa è sicuramente romana e probabilmente fu realizzata durante il secondo secolo. Questo solleva la domanda su come sia arrivata in Messico in tempi precolombiani. I vichinghi l'hanno portata qui quando hanno visitato le Americhe o i romani sono stati qui una volta. Antico sismografo. Sarebbe molto utile sapere quando stanno per arrivare i terremoti. Le aree potrebbero essere evacuate prima che si verifichi un disastro e innumerevoli vite potrebbero essere salvate. Fatichiamo a prevedere i terremoti qui nel ventunesimo secolo anche con tutta la meravigliosa tecnologia a nostra disposizione. Eppure gli antichi cinesi cercavano di fare tali previsioni durante il secondo secolo. Usavano dispositivi come questo sismografo realizzato da Zhang Heng nell'anno 132. Sebbene possa sembrare un vaso elaboratamente decorato, il dispositivo di Zhang Heng è incredibilmente sensibile e sofisticato. Quando viene posto a terra, può rilevare scosse che si verificano a chilometri di distanza, che fanno oscillare un pendolo all'interno dell'artefatto. Se l'oscillazione supera un certo livello di sicurezza, disloca una delle sfere all'interno delle bocche dei draghi attaccati ai lati del sismografo, facendo cadere la sfera nella bocca di una rana. Questo non solo avvisa gli osservatori che sta arrivando un terremoto, ma dà anche un'idea della direzione da cui proviene. Probabilmente non era molto preciso in termini di previsione delle direzioni e non avrebbe dato molto preavviso, ma era certamente meglio di non avere alcun avviso. In uno degli eventi più affascinanti del secolo, scienziati argentini hanno fatto una scoperta scioccante in Antartide nel 2024. Una nave da guerra, scomparsa da oltre 100 anni, è emersa dalle profondità ghiacciate, rivelando ciò che molti chiamano già l'enigma della neve nera. La nave, che si credeva persa dal 1923, è stata scoperta dopo uno scioglimento inusuale dei ghiacciai, ma la vera sorpresa è arrivata quando i ricercatori sono entrati nella nave. All'interno hanno trovato i corpi congelati di tutto l'equipaggio, ancora seduti alle loro postazioni, come se il tempo si fosse semplicemente fermato. L'aspetto dei cadaveri, con volti deformati ed espressioni di terrore, rende chiaro che qualcosa di inspiegabile è accaduto prima del naufragio. Gli scienziati credono che la nave stesse partecipando a una missione segreta di esplorazione nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, documenti recentemente scoperti suggeriscono che l'equipaggio fosse coinvolto in un'operazione sperimentale legata a un fenomeno atmosferico misterioso, conosciuto da loro come l'ombra dell'Artico, un termine enigmatico che appare ripetutamente nei registri di bordo. Oltre ai corpi, una strana creatura sottomarina è stata rilevata vicino al luogo, nuotando in cerchio intorno alla nave, come se la stesse sorvegliando da decenni. Questa entità, che i biologi marini non riescono a identificare, ha suscitato l'interesse di studiosi del paranormale, i quali credono che il naufragio nasconda segreti oltre la comprensione umana. Sebbene una parte dell'enigma sia stata rivelata, la rinascita dell'enigma della neve nera ha portato solo più domande. Come è stato possibile che la nave sia rimasta conservata per così tanto tempo? E cosa è realmente accaduto all'equipaggio in quelle acque gelide e desolate? Il mistero riemerge, ora illuminato dai riflettori del mondo intero, ma le sue risposte sembrano più gelide e oscure che mai. La batteria di Baghdad A questo punto, mentre stiamo lentamente accettando che i nostri antichi antenati avessero una comprensione della tecnologia migliore di quanto generalmente gli riconosciamo, diventa possibile credere che potessero anche aver compreso i principi di base dell'elettricità? Questa domanda deve essere posta a causa dell'esistenza della batteria di Baghdad, che fu trovata in Iraq nel 1838. Sebbene gli storici tendano a respingere l'idea che sia una batteria, è quasi impossibile comprendere l'artefatto in altro modo. È un vaso di argilla che ospita una barra di ferro, attorno alla quale c'è un avvolgimento di rame. Non avrebbe molto senso crearla come ornamento se non potesse essere vista a meno che il vaso non fosse aperto, e sarebbe comunque un ornamento dall'aspetto strano. La batteria di Baghdad è stata testata in condizioni di laboratorio, e si è dimostrata capace di mantenere una carica. Questo pone un enorme problema storico perché l'artefatto ha più di 2000 anni. Queste antiche persone stavano sperimentando con l'elettricità, e se sì, perché non hanno portato l'idea oltre? Antico contachilometri Il contachilometri nella tua auto tiene traccia di quanta distanza copri quando guidi. Più in generale, un contachilometri può essere utilizzato per determinare la distanza da un luogo all'altro. Quando fu inventato, rivoluzionò la creazione di mappe e la pianificazione dei percorsi nel mondo antico. Dobbiamo ringraziare Vitruvio dell'antica Roma per aver inventato il contachilometri, un compito che completò poco più di 2000 anni fa. Il suo primo contachilometri assomigliava a una carriola con una ruota ingrandita piena di ciottoli. Ogni volta che la ruota ruotava, un ciottolo cadeva in un piccolo secchio sotto il dispositivo. Poiché Vitruvio misurò il diametro preciso della ruota prima di montarla sul dispositivo, sapeva esattamente quanta distanza era coperta da ogni rotazione. Poteva quindi determinare la distanza tra due punti contando il numero di ciottoli che il contachilometri depositava nel secchio. Dopo aver concepito questa geniale invenzione, la pianificazione dei viaggi nell'impero romano non comportava più tante congetture e le mappe divennero molto più accurate. I contachilometri di oggi potrebbero non usare più i ciottoli, ma funzionano ancora sullo stesso principio vecchio di 2000 anni. Il carro armato di Leonardo da Vinci Il maestro del rinascimento italiano, Leonardo da Vinci, ha una forte pretesa di avere la mente più grande nella storia dell'umanità. Il polimata era anni luce avanti rispetto al suo tempo nell'arte, nella scienza, nella biologia e nella scultura, e sembra che potesse prevedere anche il futuro del combattimento militare. Molto prima che un carro armato attraversasse i campi d'Europa o qualsiasi altra parte del mondo, da Vinci aveva concepito un'idea di base di come potessero essere. Non costruì mai un prototipo basato sul suo design, ma i principi fondamentali sono validi. Il carro armato di da Vinci aveva spazio per archibugi rivolti verso l'esterno e una sezione superiore removibile che poteva essere aperta per aiutare la visione del conducente. Le ruote erano probabilmente troppo sottili per essere utili in un campo fangoso e il design a manovella dell'asse sembra difettoso, ma non dovremmo prenderglielo troppo contro. Un carro armato di legno probabilmente non sarebbe durato a lungo sul campo di battaglia, ma questo design è una base per il futuro. Infatti, un gruppo di ingegneri è riuscito a costruire con successo un modello funzionante del carro armato basato sui progetti di da Vinci nel 2010. Pratiche di sepoltura di 5.500 anni fa Deporre i morti con dignità è stato un passo importante nello sviluppo dei nostri antichi antenati. Le pratiche e i rituali di sepoltura variano notevolmente da luogo a luogo e da epoca a epoca, ma gli archeologi sono sorpresi dalla sofisticazione di questo sito di sepoltura appena scoperto nel sud-est della Polonia. È una grande fila di tumuli megalitici che un tempo contenevano 12 tombe lunghe, 45 metri foderate di pietra. Le pareti erano sostenute da palizzate di legno, una delle quali è sopravvissuta fino ai giorni nostri, con un ingresso a un'estremità e un atrio al centro. Questo sarebbe stato un luogo piuttosto elaborato per seppellire i morti e anche per i parenti, per venire a visitarli. Considerando che fu costruito circa 5.500 anni fa, è incredibilmente avanzato per il suo tempo. Tuttavia, potrebbe non essere stato il luogo di riposo finale delle persone sepolte al suo interno. Prove archeologiche sul sito suggeriscono che i corpi venissero periodicamente rimossi per essere sostituiti da nuovi, quindi potrebbe essere che le persone fossero collocate qui per un breve periodo di lutto prima di essere sepolte definitivamente altrove. Per oggi è tutto, qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!